Infatti, voglio ringraziare Paola per essere con noi, ringraziare tutti quelli che stanno lavorando per andare avanti con i vaccini. Questo è un paese che ha bisogno disperato di vaccinarsi. Dobbiamo riuscire a vaccinarci il più possibile, dobbiamo arrivare le dosi, le regioni devono organizzarsi bene. Lì ovvero tanto, a mio giudizio, dovrebbero gestire stati tutti vaccinati in tutta Italia, invece ancora non è successo. L'idea che ci siano dei pazzi squinternati che possano pensare di mettere una Molotov davanti a un centro vaccinale per me è un non-sens. Il contrario di quello che l'italiano normale deve fare in questo momento. Remare tutti in questa direzione per poterci vaccinare in massa. Quindi grande solidarietà a Brescia che tra l'altro ha pagato un tributo spaventoso al Covid, come sapete. Ne abbiamo fatto dei collegamenti che io ancora conservo nel cuore l'anno scorso. Una città ferita che non si è mai arresa, quindi una roba senza senso. Scusami Paola, eccomi qua.